Quando un uomo che ama la storia del cinema incontra Sergio Leone, quello che ama il cinema è un uomo felice, appagato nei sensi che il maestro ha saputo rapire e marchiare indelebilmente con un pugno di titoli scolpiti nella storia dell'arte e dell'immaginario di diverse generazioni, saccheggiati, imitati e emulati da chi, come Quentin Tarantino, considera Leone il più grande regista di tutti i tempi. La mostra, che lo celebra a Roma, da qui al 3 maggio, nella maestosa Arapacis, è organizzata dalla Cineteca di Bologna e non ha eguali per ricchezza di documenti, chicche, filmati inediti, lettere, sguardi incrociati su biografia e opere, fonti di ispirazione e sogni incompiuti. Si comincia da un prologo, un'area semibuia in cui risuona l'allegorico squillo di telefono, lo stesso che ossessionava Noodles, poi un tuffo nel passato, dove tutto ebbe inizio, alle radici artistiche di Papà Vincenzo, regista ai tempi del muto con lo pseudonimo di Roberto Roberti e di Mamma Edvige, attrice di cinema e di rivista. Le prime interlocuzioni con gli artigiani dell'epoca, accompagnate da una fame di cultura vorace e trasversale. Il giovane Sergio si ciba di film e di letteratura, fa incetta di opere d'arte, acqueforti, ama Goia, legge Omero, Shakespeare, ammira i quadri di Hopper e adora De Chirico, tutte passioni che riuscirà miracolosamente a elaborare e disseminare nelle sue pellicole, mimetizzate sulla scena, omaggiate dalle inquadrature, evocate nei silenzi, nei colori, nei personaggi e nelle frasi che ancora oggi ripetiamo, riempiendoci gli occhi con la sua grammatica filmica, unica e irripetibile. La sua capacità di dilatare il tempo e maneggiare lo spazio, di scavare negli occhi dei suoi attori e comparse, scelti sempre per intensità, fisicità scultoria o per i lineamenti sghembi, arsi dal sole, intagliati dal vento. Leone era un poeta di immagini, cantore di quella solitudine che affliggeva le sue anime malinconiche e violente, beffarde e disincantate. Nella mostra lo rivediamo giovane, in quella rapida comparsata nel ladri di biciclette di De Sica, ne riascoltiamo stralci di intervista mentre racconta i suoi primi grandi amori, Chaplin e John Ford. Sfioriamo il poncio di Clint, sbirciamo i backstage del dollaro, col gigantesco volontè che sbaglia una battuta e scoppia a ridere. Ci imbattiamo nell'amico di sempre, Ennio Morricone, col quale Sergio ha diviso il banco in terza elementare e che poi diventerà complice dei suoi capolavori, in un sodalizio unico nel suo genere, visto che i brani venivano composti prima delle riprese e poi trasmessi a tutto volume sul set, in modo che le movenze degli attori fossero condizionate dalla musica. Scivoliamo nella simbolica stazione, diceva una volta in America, l'opera della vita, il colossal intimista, inzuppato nel sangue della storia e nelle lacrime del rimpianto. E sbucchiamo nella triste incompiuta, la pellicola sull'assedio di Leningrado, che Leone si stava preparando a girare prima che un infarto lo stroncasse a 60 anni, mentre nella sua casa di Roma stava guardando in tv il film Non voglio morire di Wise. Ironico e improvviso commiato di un gigante del cinema e della cultura popolare, che lassù da qualche parte, a chi gli chiede cosa ha fatto in tutti questi anni, di certo risponderà, sono andato a letto presto.